Dio, che bellezza, che vero bellezza, sono davvero felice qui ora Ciao ragazzi, benvenuti tornati al canale in netherland Prima di tutto questo sarà il primo video completamente in inglese Siamo in una piccola città chiamata Engelholm, a circa 85-90 km di Malmo Sono qui perchè, su un sito chiamato Artportalen, dove tutti i fotografi e i amici Rapportano quando trovano alcune specie particolari C'è stato rapportato che qui, in questa area, in questa riva, ci sono alcuni dacchi mandorini Sono molto felice perchè ho appartato il caro a circa 200 metri da qui Ho appartato a questa riva e ho visto due mandorini dacchi Sì, quindi potrei fare alcune foto E poi, uno di loro si è andato a l'altra parte della riva E è dietro dietro a questi bambini E l'altro si è in fronte di noi C'è il plume Quindi ora, spero che la riva comincia a spingare ancora Perché voglio prendere foto e video di questi bambini Voglio mostrarvi la bellezza di questo bambino E' non l'ultima volta che ho visto L'ultima volta che ho visto l'ultima volta in Warsaw Un paio anni fa, tre anni fa Ma, infatti, il giorno non avevo la camera con me Quindi, sono davvero molto felice Che ho avuto la possibilità di prendere foto E ora voglio prendere video Infatti, è abbastanza caldo Abbiamo avuto qualche giornata Quando i tempi erano di circa 13-12 gradi Quindi, stavamo pensando sull'ultima E' stato arrivato, e ho detto che i tempi erano di nuovo E ho detto che i tempi erano di nuovo E ho avuto un pochino Quindi, posso aspettare un pochino E' pronto Quindi, spero che la riva è riva E posso prendere video Quindi, questa volta è un pochino E poi, è un pochino E poi, è un pochino Iscriviti al canale E poi, il nostro geweza È un pochino E poi, è un pochino E poi, è un pochino Il nostroットore E poi, è un pochino E poi, è un pochino so guys i just took a walk because it was quite cold waiting here for nothing and nothing was happening and when i came back i found that there are three of them and now they're just here on this side of the river one is there behind the tree the other one i hope you can see from the gopro just here and the other one is down there on that on the rocks cleaning is pretty much they are really really beautiful birds they are really really beautiful what we are watching now there are actually three males mandolin duck the females are quite different they are almost all gray with some stripes of blue purple and as usual happens in those species where we have this sexual the deformities it's a big difference between male and female and this is because usually the male is more beautiful and this is not because of a sexist way of thinking of because mother mother nature is sexist but but i was reading that being more visible attract more the predators so in the case if a predator comes here for example it will be more attractive from the male that the females that can escape having more chance to save the the species so it's for the reason that usually is this big difference and males they are better than females but anyway now i want to take some pictures also because it's also nice that they are actually outside from the water and take some video and god what a beauty what a real beauty i'm so happy right now so 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.